Buongiorno, stamattina prendiamo in mano il Corriere della Sera di giovedì 21 maggio. Nella pagina Economia c'è un articolo sul turismo a firma di Giuliano Noci. Perché è importante? Perché ci parla di uno studio del Politecnico di Milano su quello che è l'evoluzione del turismo. Io vi invito a leggere questo articolo, o ancora meglio, perché come tutti gli articoli è un solito, fatto molto bene è un solito, a andarvi a prendere l'indagine del Politecnico di Milano, perché è interessantissimo. La sintetizzo in questa maniera. L'autore dell'articolo, Giuliano Noci, ci dice che il mercato del turismo è cambiato e fin qua ci siamo. che si andrà più verso valorizzazione di aree sconosciute, alle grosse fette di turismo, e fin qua va bene, che torneremo quindi a un turismo anni 50, anni 60, magari meno cacciarone, magari anche meno tamarro in alcuni aspetti, senza sovraffollamenti, un turismo in cui probabilmente si abbassa il livello del suono e si riprende a pensare, si riprende a utilizzare il cervello, in cui la natura sarà protagonista dal punto di vista culturale. Ma ci dice anche altre cose. Per esempio, ci dice che tutto quello che è il mercato fieristico andrà a modificarsi in maniera pesante. Quindi, a livello localistico, le fiere locali hanno un loro senso, continueranno, anzi avranno uno sviluppo. Le fiere a livello nazionale, se indirizzate ai consumatori, invece, ci possiamo pure scordare, nel senso che o cambiano formula, ma nel profondo, oppure, perfino quegli 88.000 visitatori reali che faceva il salone del camper, ci scordiamo pure quello. Vi consiglio di leggerlo, perché poi i numeri sono numeri e le chiacchiere stanno a zero.